Il bilancio del Comune di Sciacca prosegue il suo iter in commissione consigliare, nonostante il commissariamento da parte della Regione. Il Presidente del Consiglio Comunale, Ignazio Messina, attende all'arrivo del Commissario Raitano per comunicare che il punto è già comunque inserito all'ordine del giorno della seduta del 23 ottobre. Sul piano politico Ignazio Messina evidenzia che non è certamente una responsabilità del Consiglio Comunale se ci si trova ad ottobre a correre per l'approvazione del bilancio. Noi ci ritroviamo a fine ottobre a parlare non del bilancio consuntivo ma del bilancio di previsione del 2023. Ora, francamente, sa un po' di beffa perché tu lo puoi approvare dal 1 gennaio al 30 settembre. Ci arrivi lungo anche al 30 settembre ma quello che incide è sulla capacità programmatoria perché non hai uno strumento di programmazione essenziale. Quindi questo lo voglio sottolineare perché dispiace, il Consiglio Comunale ha appena avuto il bilancio, la delibera, si è messa in moto con le commissioni per esaminarlo. L'abbiamo subito messa all'ordine del giorno però a mio avviso bisognerebbe stare più attenti e lavorare per fare in modo che il bilancio venga approvato molto prima per poter utilizzare tutto l'anno. Lei diceva bene che l'esame del bilancio è iniziato già da un po' di giorni da parte della commissione competente. Ci sono poi questi famosi 40 giorni di tempo per emendare la proposta dell'amministrazione e tutto. C'è anche un appello sul piano politico da parte del sindaco a fare presto e a collaborare, a vivere questo momento di approvazione del bilancio come una sorta di nuova pacificazione. Io devo dire che intanto c'è un grande senso di responsabilità da parte delle commissioni che comunque ho sollecitato quindi a non utilizzare tutto il tempo, quello necessario. Così poi Ignazio Messina commenta l'appello formulato dal sindaco Fabio Termine nel corso dell'ultima seduta consigliare. Quello finalizzato ad aprire una nuova pagina nei rapporti tra amministrazione e opposizione. Mi ha stupito perché non lo comprendo bene, quindi lo vorrei spiegato meglio, però non spiegato a parole, ma spiegato nei fatti. Perché poi se io ti chiedo di collaborare devi essere concreto, non nei fatti. Il tema è questo, se ci riferiamo all'attività consigliere, cioè al fatto di dover approvare le delibere, io vi dico che da quando ci siamo insediati il Consiglio Comunale ha approvato 155 delibere, peraltro di cui 56 debiti fuori bilancio e sono state approvati tutti, cioè non c'è una delibera che non è stata bocciata dal Consiglio Comunale. Salvo poi i consiglieri che giustamente esprimono le critiche e le valutazioni, ma questo viva Dio, credo che non possa essere questo il fatto collaboriamo nel senso che tu non devi dire nulla di quello che io faccio. Cosa diversa sulla collaborazione è un'altra, faccio un esempio per esempio sul bilancio, il bilancio è uno strumento di carattere generale, cioè ci sono macro voci, ma poi l'amministrazione deve spendere questo, utilizzare, io ho un milione di euro per infrastrutture, poi dopo di che devo decidere se intervengo per fare una strada, per fare un'aiuola, per fare una piscina, devo farlo. E quello è lo strumento di programmazione, quindi il PEG famoso, il programma esecutivo. A quel punto, ecco, chi vuole collaborare, so che la Commissione lo ha chiesto, mandi in commissione al Consiglio Comunale anche il PEG per valutare insieme come spendere queste somme, perché se poi alla fine dici io devo correre e collaborare, ti do tutti gli strumenti e poi tu fai quello che vuoi, questa non è collaborazione. La collaborazione arriva dal coinvolgimento preventivo di chi, peraltro, ha i numeri in Consiglio Comunale, dice sostanzialmente Ignazio Messina, riferendosi anche alle vicende terme e carnevale. Intanto la prossima settimana è atteso il pronunciamento del CGA sul famoso ricorso elettorale. L'undici, dico aspetteremo questo esito, ma con grande serenità.